Mi raccomando ragazzi, il nostro datus prima o poi tornerà E il 1-0 non è male, è importante fare 3 punti Quindi ragazzi, appuntamento alla prossima Nostra datus, ragazzi A meno una volta al mese ci azzecca il risultato Gol di Cardi, gameplay, tac, gol di Cardi stasera Che bello, che bello ragazzi Allora innanzitutto volevo pubblicizzare Il video di Neschio Che è uscito oggi Che è uscito oggi Questa è la quadrupla intervista dopo la reazione, dopo i gironi Mi invito a guardarlo, scrivete al canale di Neschio Un saluto a Neschio, forza inter sempre Grazie per avermi concesso un'altra intervista Allora, allora, Nostra datus, 1-0 Icardi, è meglio di così che far cucchiaio sto qua Far cucchiaio, er cucchiaio ha fatto Mamma mia, infatti io non ho neanche esultato Perché ha detto, che cazzo, cosa ha fatto? No, comunque Comunque, comunque Sono contento solo per la vittoria, sinceramente Perché Tra le altre cose Non è che ho visto una partita poi così Cioè, l'Udinese ha fatto, il primo tempo ha fatto niente Non ha fatto neanche un tiro in porta Nel secondo si è fatto un po' più Diciamo che ha giocato la sua partita Tatticamente come l'aveva impostata di Nicola Dico, me cazzi, cazzo Una torre dell'Udinese Alla fine è così che queste squadre impostano le partite in trasferta Cioè, il primo tempo si fanno giocare la squadra di casa Il secondo tempo si svegliano, fanno qualche azione da gol E che rischi che abbiamo avuto Che rischi che abbiamo avuto Tre palle limpide Occasione per l'Udinese E noi invece solo su rigore Abbiamo potuto segnare stasera Perché non siamo in grado di segnare su azione Non capisco che cazzo c'ha Arriviamo lì, arriviamo lì E poi non riusciamo a mettere la palla dentro L'unica azione, diciamo, ghiotta Sì, è stata quella di Keita Che Keita Così così stasera Mi ha un po' deluso A parte quell'occasione lì che ha fatto il tiro nel primo tempo Che è parata del portiere E poi vabbè, ha fatto un cross su Icardi Che l'ho vista dentro Quella Cazzo Fil di palo Abbiamo meritato di vincere Per carità Però ragazzi Potevamo chiudere questa partita Non siamo stati in grado di segnare In tre contro uno Questa era l'ottantesimo L'ottantesimo Porca putta Poi quello lì Fuori gioco Di Icardi Vabbè Perché dovevo azzeccare il pronostico Per quello Che non ha segnato Comunque Contento per i tre punti Perché ci stavano Questi tre punti Dovevamo assolutamente ottenerli Io ieri l'ho detto Tre punti In qualunque modo Tre punti dobbiamo fare Fortunatamente c'è il VAR Perché senza VAR Quel rigore lì Non l'avrebbe mai visto Nettamente mano Arbitraggio così 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 Ci stava Qualche giallo Su Berami ci stava Non fischiava Alla fine giallo Solo al portiere L'ha dato Musso Lì come cazzo si chiama Solo all'inter Ha dato gialli Stranamente Vabbè Ma su quello Non voglio attaccarmi Comunque Fortunatamente il rigore Ce l'ha dato Quindi nettissimo Sono contento Perché ci voleva Questa boccata D'ossigeno Con questi tre punti Ora la prossima Contro Contro il Chievo Sabato contro il Chievo Mi sembra di sì Contro il Chievo Sabato prossimo Ora Rilassiamoci Guardiamo le altre partite Vediamo un po' Come va a finire Noi i tre punti Li abbiamo fatti Quello che dobbiamo tornare L'abbiamo fatto Fortunatamente Poi I giocatori In Angola Hanno fatto qualche minuto Finalmente Poi cosa aggiungere di più Gio Mario La sufficienza Se la merita Questa volta Qualcosa di buono L'ha fatto Lautaro Non mi è dispiaciuto Lautaro Quando è entrato Qualcosa ha cambiato Ha fatto qualche guizzo Importante Non ha concluso La rete Però Diciamo che Lo proveré a titolare Sinceramente Una volta tanto Politano È quello che Dà di tutto È quello che Corre sempre Infatti Esce sempre prima Perché Si spompa Si spompa Si fa un culo Pazzesco La difesa Direi Non male Non parte qualche occasione Però Devra e Skriniar Sempre Loro Loro lo fanno Versali Come Mi è piacicchiato Così come Asamoah Brozovic Insomma Diciamo comunque Sufficienti Sufficienti Solo che Solo su rigore Potevano segnare La partita Fortunatamente Fortunatamente Abbiamo Abbiamo vinto Quello L'importante Di Di aver ottenuto Tre punti Stasera Col Ercucchiaio Di Icardi Nostra Datus è tornato Meglio di così Non poteva andare Ragazzi Ci vediamo alla prossima Forza Inter Sempre Iscrivetevi al canale In tanti Mi raccomando Ragazzi Non mancate Buon weekend Ci vediamo Alla prossima Forza Inter Sempre